Allora, io sono il dirigente scolastico dell'ICI Frascati 1 e ci troviamo oggi qui presso il plesso staccato della Scuola dell'infanzia di Cocciano. E siamo qui per ammirare un'opera d'arte, che è quella che è qua dietro, grazie a questo progetto regionale che ci ha permesso di trasformare un luogo di formazione dei bambini molto piccoli in un luogo di bellezza. E quindi noi siamo contentissimi di aver accolto questa iniziativa, che ci ha permesso di trasformare il luogo di gioco e di divertimento e comunque di formazione dei piccoli in un luogo anche esteticamente aperto alla fantasia e alla diversità. Di questo divinto in particolare l'insieme effettivamente ha modificato quello che era una struttura veramente brutta di cemento armato in un'opera d'arte. E quindi voglio dire l'impatto è eccezionale e tra l'altro il movimento, la varietà dei personaggi, la presentazione del mondo del circo, che è comunque un mondo fatto da artisti, fatto da immaginazione, da improvvisazione. Sono tutte attività e comunque modalità di approccio alla vita che noi vogliamo sviluppare nei ragazzi, nei bambini. Allora diciamo che si è creato un relata refero, cioè una situazione locale, ovviamente stiamo ai Castelli, a Frascati, dove è iniziato un tantamme di comunicazioni, comunque di iniziative, di richieste e di domande rispetto a quello che si stava sviluppando in una realtà come quella di Cocciano. Tra l'altro teniamo conto anche dell'impatto territoriale. Questa è considerata una zona periferica di Frascati, che ha una sua storia legata al dopoguerra, quindi la ricostruzione dopo i bombardamenti. E quindi è come trasformare e rendere centrale una zona che fondamentalmente ha sempre vissuto marginalmente rispetto alla dinamica di Frascati. E questo a noi fa piacere tantissimo perché trasforma Cocciano in un punto di aggregazione e soprattutto in un punto culturalmente spendibile. E quindi tantissima gente ci ha chiamati e man mano che c'era lo sviluppo di quest'opera, quindi con foto che venivano diffuse sui media, è nato l'entusiasmo, il coinvolgimento anche della popolazione, che normalmente ci fermava e ci diceva bellissima opera, finalmente si vede qualcosa di bello anche a Cocciano. Allora, indubbiamente il progetto, siamo rimasti entusiasti di questo progetto regionale, ovviamente che ha permesso di trasformare questo luogo in un luogo bellissimo. Ovviamente abbiamo colto l'occasione, in accordo con il liceo Ripetta, di aggiungere un progetto di alternanza scuola-lavoro con i ragazzi del liceo. Quindi 46 ragazzi sono venuti a svolgere presso questo plesso scolastico il loro progetto di alternanza scuola-lavoro. Noi abbiamo fornito il materiale, quindi le pitture e tutto quanto, e loro hanno realizzato l'abbellimento e quindi il trasformare un'opera d'arte tutta la parte interna della scuola. Tra l'altro, con una bellissima parte di condivisione del progetto stesso, con gli alunni della scuola, quindi alunni dell'infanzia insieme agli insegnanti, che hanno condiviso le scelte, tra l'altro alcuni disegni sono stati prodotti proprio dai bambini della scuola dell'infanzia. Quindi oltre ad avere un risultato eccezionale, c'è anche il coinvolgimento perché sono stati protagonisti proprio nella realizzazione del progetto stesso. E questo per noi è il massimo, anche perché ragazzi del liceo, quindi grandi, che vengono in una scuola dell'infanzia dove prestano la loro opera, che sarà poi la loro attività professionale, definendo anche un'opera d'arte che rimarrà nel tempo e quindi sarà a memoria di quello che hanno fatto nel loro percorso. Questa è la parte finale di un'opera incredibile, il fatto stesso di vederli al lavoro mi fa piacere, quindi dal punto di vista di dirigente scolastico la parte che mi è piaciuta è il fatto proprio che fossero dei ragazzi che svolgersero questa attività e quindi è un po' il compimento di un percorso dove io faccio il preside di una scuola che va dall'infanzia fino alle medie, vedere la prosecuzione al liceo dove dei ragazzi del liceo tornano per abbellire una scuola è il massimo che ci possa essere per me. E poi anche i contenuti del dipinto stesso, insomma, che quindi percorre la fantasia e permette ai bambini quando si troveranno nel parco all'esterno di giocare in un luogo con questi dipinti che sono veramente eccezionali, vere e proprie opere d'arte. Quindi in qualche modo trasformiamo la scuola anche in una galleria d'arte dove si viene a vivere la bellezza, l'estetica, anche perché io sono convinto che il vivere in un ambiente bello comunque sviluppa capacità di relazione e migliora anche la capacità relazionale, l'anima dei bambini. Questi dipinti sono straordinari, straordinari, hanno dato veramente un tocco di felicità, di entusiasmo a tutta la nostra scuola. Bellissimo come lo è l'artista, ha rispecchiato veramente tutto ciò che ha messo in atto, quindi la vera natura dell'artista si vede, è meraviglioso. Noi siamo orgogliosi di aver avuto questo privilegio. A me piace davvero il circo, piace davvero i colori che sono stati usati. E poi, che dire, sono fantastici tutti, sono bellissimi tutti, iniziando appunto dal circo, dagli altri disegni dei ragazzi all'interno della nostra scuola. Hanno dato veramente una vivacità e ci hanno trasportato veramente in questo fantastico mondo di colori e di forme. Ne avevamo bisogno.